L'ATER mette in vendita 14 alloggi con un elenco pubblicato sul proprio sito internet. Si tratta di diversi appartamenti in via Zorutti, Campi Elisi, via Vignetti, via Costalunga, Strada di Fiume, via Umago e Pitacco. Gli immobili vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente alle loro eventuali pertinenze, quali cantine o soffitte, terrazze, quote, parti comuni o aree in diritto esclusivo, senza obbligo da parte del venditore, di opere di sistemazione o di miglioria, né del rilascio dei certificati di conformità degli impianti, anche energetici, ad eccezione dell'attestato di prestazione energetica redato a cura del venditore. Per ogni appartamento è possibile visionare online l'indirizzo esatto, la superficie complessiva, le foto e le planimetrie. Nel caso ad ATER pervengano più domande di acquisto relative ad una stessa unità, priorità verrà garantita a soggetti titolari di domanda inserita nella graduatoria di edilizia sovvenzionata del comune di residenza. Sempre sul sito di ATER verrà pubblicato un calendario con le date e gli orari fissati in cui sarà possibile visitare gli alloggi. La richiesta per queste visite dovrà essere accompagnata dal versamento di 40 euro come rimborso spese forfettario, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sempre sul sito. L'adempimento va ripetuto per ogni singolo immobile per il quale una persona desidera effettuare la visita. Le richieste inoltre dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della proposta. La scadenza per le presentazioni delle domande è fissata entro le 12 del 30 novembre.